Cesena che ha giocatori contati, Cesena al quale Bagnoli, continuatore di una tradizione di allenatori che portano nel recente passato i nomi di Marchiore e Bersellini, ha dato il miglior collettivo della Serie B. E domenica all'Olimpico c'è Lazio-Genoa, tra le due squadre un punto solo di distacco ed erano sette nella prima settimana di marzo, quella dunque che alla vigilia sembrava una fuga